i portuali si sono messi in sciopero hanno detto noi non vogliamo discriminazioni sul luogo di lavoro ora ve la sbrigate voi caro governo che avete fatto un fottuto green pass che come ho detto in aula discrimina i lavoratori quindi provoca una discriminazione e quindi è una delinquenza politica a tutti gli effetti quindi prendono atto il governo per per voce per bocca per documento del ministro lamorgese prende atto della loro situazione dicono signori questi qui ci stanno provocando un casino incredibile perché se incrociano le braccia è un problema di gestione dell'attività portuale ok quindi ciò al fine di disporre di un quadro valutativo sulla possibile incidenza di eventuali defezioni dovute alla mancanza di green pass suscettibile di determinare una grave compromissione dell'operatività degli scali il governo ha paura ha paura che si blocchi il sistema portuale nel corso della suddetta riunione in considerazione delle gravi ripercussioni economiche quindi tutto il resto non gliene fotte un cazzo quindi non è più un problema di tenuta della salute ok questa è la dimostrazione che il green pass con la salute non c'entra un cazzo ve l'abbiamo detto mille volte e adesso lo mettono loro per iscritto ok nel corso della suddetta riunione in considerazione delle gravi ripercussioni economiche quindi il green pass stavolta è funzionale all'economia che potrebbero derivare dalla paventata situazione anche a carico delle stesse imprese operanti nel settore si è raccomandato altresì di sollecitare le stesse imprese a che valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass test molecolari o antigenici rapidi rapidi gratuiti quindi quando ci sono di mezzo loro il green pass può essere dato anche a tamponi gratuiti quindi la protesta dei portuali è una protesta che ha fatto male al governo ha fatto male e loro nero su bianco nero su bianco hanno scritto queste cose lo guardate perché è direttamente una circolare del ministero dell'interno io vi ho letto solo una loro circolare bene sapete qual è stata la risposta del dei portuali eccola qua comunicato stampa e ve lo vado a leggere perché lo merita davvero comunicato stampa con richiesta di pubblicazione coordinamento lavori portuali di trieste buongiorno a tutti dopo la manifestazione di ieri ribadiamo che come già preannunciato in precedenza il giorno 15 ottobre ci sarà il blocco delle operazioni all'interno del porto di trieste siamo venuti a conoscenza che il governo sta tentando di trovare un accordo una sorta di accomodamento riguardante portuali di trieste e che si paventano da parte del presidente zeno d'agostino le dimissioni noi questo è scritto in maiuscolo caratteri stampatello maiuscolo noi come portuali ribadiamo con forza e vogliamo che sia chiaro il messaggio che nulla di tutto ciò farà sì che noi scendiamo a patti fino a quando non sarà tolto l'obbligo del green pass per lavorare non solo per i lavoratori del porto ma per tutte le categorie di lavoratori ricordiamo al presidente d'agostino che nel momento in cui lo stato lo ha colpito i suoi portuali lo hanno difeso a spada tratta ora che portuali hanno deciso di difendere loro stessi e le altre categorie di lavoratori con le sue dimissioni dimostra di non volere lottare al fianco dei lavoratori stessi gli auguriamo buon lavoro e i i i i i